Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Rubio e sono qui per parlarvi delle uscite anime su Netflix in questo autunno-inverno 2018 Allora mi sono buttato sugli anime, ne ho visti al momento 3, sto guardando il quarto, conto di recuperarli alcuni Alcuni però non mi convincono onestamente, non lo so, boh, alcuni si, altri un po' no Però piano piano li recupererò un po' tutti Non mi chiedete perché è scoppiata sta cosa degli anime, non lo so, comunque magari in un futuro leggerò anche i manga Iniziamo subito, questa è la 50 milionesima volta che sto a registrar sto video, basta Allora, il trend è stato aggiunto, Fate Extra Last and Core Devo guardare la prima stagione, fatemi sapere se l'avete vista, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta Se non sbaglio dovrebbe essere molto futuristica, può essere sulla via insomma del futuro Se non sbaglio dovrebbe essere su quel piano li Non mi ricordo se ho visto il trailer onestamente, però fatemi sapere Allora, il 3 verrà aggiunto, Hero Mask parte 1 La storia è incentrata su una serie di orribili incidenti che ruotano intorno a una misteriosa maschera Una ragazza possiede la chiave per portare le maschere a livello successivo Allora, da queste poche righe non mi dice assolutamente niente Cioè nel senso se queste maschere sono in qualche modo pericolose Perché se c'è un gioco, magari c'è un gioco di ruoli, boh non lo so Comunque, boh vedremo, vedremo com'è, mi incuriosisce Poi, il 18 verrà aggiunto Becky, la parte prima Allora, mentre il campione di arti marziali Becky, Amna, Ama Si allena per superare suo padre, il più grande campione del mondo, Te Pareva 5 dei più violenti e brutali detenuti del braccio della morte si riuniscono per affrontare Becky Mi incuriosisce? Onestamente no Perché mi sa molto di Dragon Ball misto a Prison Break, onestamente Quindi non lo so Forse potrebbe essere interessante la tematica del padre figlio Cioè del padre che comunque, insomma, è più potente del figlio di qua di là Però, no, nel senso, si potrebbe essere qualcosa di molto action, però no Poi, il 21 dicembre viene aggiunto Sirius de Jhaegge Jhaeger Dal 21 dicembre Ambientata negli anni 30 a Tokyo, il gruppo dei Jhaerges Non so come si pronuncia Spietà È impienato in una battaglia mortale contro i Vambli Per un misterioso arco sacro noto al nome con l'arco di Sirius Tra di loro c'è Yuli Un giovane lupo mannaro Allora, potrebbe essere interessante vedere la Tokyo degli anni 30 Se magari danno importanza a tutto l'ambientazione Onestamente mi sa molto di una battaglia tra le fazioni Tipo, che ne so, il padrino Quindi, insomma, questa cosa per prendere questo arco di Sirius Quindi una sorta tra il padrino, Indiana Jones e un lupo Che hanno messo lì così Quindi, sinceramente, non riesco a capire in che direzione va Cioè, se fantasy, se, insomma, crime o qualcos'altro Non so se mi incuriosisce I disegni sono fatti relativamente bene, onestamente Guardando questa immagine C'è una tizia, ovviamente, col seno di fuori Ma noi ci siamo abituati Il 21 dicembre ve l'ha aggiunto Last Hop parte 2 Io devo vedere ancora la prima Se non sbaglio dovrebbe essere una serie televisiva Fantascientifica, sci-fi Una roba così, insomma, con i computer e quant'altro Se avete letto gli anime Fatemi sapere Se, insomma, vi è piaciuto, non mi è piaciuto, eccetera Il 24 dicembre, la vigilia di Natale Ve l'ha aggiunto High Score Girl La vicenda è ruota intorno ad un ragazzo Ma al destro nello sport La cui unica passione sono i videogiochi Un giorno viene sfidato e battuto Dalla compagna di classe Akira Ovviamente la dizia sta a giocare ai videogiochi Non è spoiler perché si vede già dall'immagine Che potete vedere qui, magari Se riesco a recuperare qualche immagine Ve la metto qui di fianco Onestamente non so se mi incuriosisce E non so neanche dove potrebbe andare a parare Perché comunque i due mi sembrano molto bambini Quindi non penso che ci sarà una storyline d'amore Non lo so, non lo so Fatemi sapere se magari avete letto il manga Poi, già disponibile Castlevania La seconda stagione Io ho visto la prima stagione Ma non me la ricordo onestamente Quindi devo recuperare assolutamente Che bello E niente Sono, mi sembra Quattro stagioni La prima e otto La seconda Quindi devo recuperare E poi guarda Recuperare la prima Che penso che riuscirà a recuperare In più breve Adesso sto guardando I sette peccati capitali Che è bellissimo Sta sedia che fa rumore Mannaggia Quindi Non leggiamo Per non fare spoiler Poi è già disponibile Un live action Bleach Liceale Shiguro riceve all'improvviso Dei poteri Da Shinigami Che vorrebbe restituire Prima di poterlo fare Deve però mettere Qualche vittima Non lo so onestamente Non lo so Non so neanche se Viene preso da qualche manga Da qualche anime Non lo so Sarà un film Ma non mi interessa Cioè non so se mi interessa Più di tanto Poi è già disponibile Batman Ninja Rivisitato dai migliori artisti nipponici Batman deve affrontare I nemici del Giappone feudale Quando si trova trasportato Inietro nel tempo Mi interessa Non più di tanto Onestamente Anche perché c'è Insomma Batman che va inietro nel tempo E viene un po' Nipponizzato Si può dire così No forse perché sono un purista Della figura di Batman Solo della figura di Batman Perché è quella che mi piace in assoluto Senza nulla togliere agli altri Onestamente Poi Arriviamo con Prossimamente Quindi non si sa la data esatta Code Gis Le 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 Luce Le Latch Comunque è scritto L L O U C H Of The Rebellion Un liceale con il potere di sottomettere la volontà altrui Indosso una maschera per guidare la rivolta giapponese Contro l'invasione britannica Penso che sia futurista Penso di sì E Quindi ci sarà una guerra in corso Vedo un robot Potrebbe essere interessante Sì Se magari mi piace il genere Oddio il genere Così non è che mi faccia impazzere più di tanto Però potrebbe essere interessante Poi L'ultimo È Prossimamente Ingress The Animation Dopo che alcuni scienziati scoprono l'esistenza di una misteriosa sostanza In grado di influenzare le menti umani Le menti umani No Le menti umane Vabbè Due fazioni intraprendono una lotta senza esclusione di colpi Per averne il controllo Un'arma potente Due fazioni Che lottano tra di loro Non mi fa impazzire Onestamente Anche qui non so se tratto da un anime Tratto da qualcosa Non lo so Queste sono per il momento le uscite di Insomma Quelle già in corso E quelle che usciranno Quindi a novembre non uscirà praticamente poco Molto bene Fatemi sapere voi cosa guarderete Cosa state guardando Fatemi sapere se magari avete letto qualche anime Di questi che vi ho citato Fatemi sapere tante cose belle Intanto vola la polvere Io vi mando un grosso bacio Noi ci vediamo al prossimo video Ciao